ciao ragazzi siamo a cavadalica strane chiazze di letame almeno dalla puzza pare che sia questo ragazzi è veramente uno schifo qua c'è la scarica di cacca direttamente a mano non ditemi che non è così da dove è uscito tutto sto schifo mamma non lo sappiamo però noi ci facciamo il bagno ci prendiamo le malattie ci prendiamo i funghi e va bene una puzza proprio allucinante è uno schifo è una chiazza direttamente dalla al corpo con le bolle dell'elica proprio l'acqua diventa fangosa che schifo uno schifo allucinante uno schifo grazie a tutti